L'Abruzzo è nella top 5 della classifica dei pagamenti in ritardo della pubblica amministrazione alle imprese fornitrici. Secondo i dati dell'analisi Market Watch, imprese e pubblica amministrazione, gli strumenti per il finanziamento dei crediti commerciali, infatti la nostra regione si posiziona al quarto posto dopo Basilicata, Bonise e Campania, con il 51% di importi pagati rispetto al 48,9% ancora da saldare. La regione Abruzzo insieme ai suoi enti locali è tra i primi posti per ritardo nei pagamenti ai crediti commerciali. In legge di bilancio abbiamo previsto uno sblocca ritardi nei pagamenti attraverso la Cassa di Depositi dei Prestiti che entro il 28 gli enti locali, tra cui i comuni, la provincia e la regione, potranno chiedere un'anticipazione di liquidità. In questa anticipazione di liquidità potranno andare a pagare tutte le ditte o i professionisti i quali avevano dei ritardi nei pagamenti. Quindi è veramente un utile strumento che chiedo a tutti di utilizzare nel momento in cui si trovassero nel suo ente locale in ritardo. Dal punto di vista invece della recessione? Sicuramente ci sono segnali di recessione anche per l'economia abruzzese. Un grosso problema è soprattutto il credito alle imprese, riscontriamo tanti problemi, le banche spesso danno grossi ritardi alle imprese anche con garanzia. Magari quando anche viene utilizzato il fondo di garanzia le banche si prendono troppi mesi, troppe cavilli burocratici. Quindi chiediamo di in questo senso anche nelle prossime settimane aprire un tavolo con le banche locali per accelerare e dare più credito alle imprese.